Va a discutere non poco la vicenda che grazie agli uomini del capitano Davide Acquaviva è emersa nel corso della notte scorsa che ha portato alla denuncia del titolare di un'impresa con sede a Sant'Arsenio dell'autista del mezzo che è stato oggetto dei controlli da parte dei carabinieri. Una scoperta che ha lasciato basito il territorio anche per l'enorme quantità di liquido che si presume fosse destinato allo sversamento nei terreni valdianesi. Una vicenda che ha inevitabilmente portato ad alimentare anche tanta rabbia tra le comunità che da anni chiedono verifiche sul territorio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina avevano fermato ed effettuato i controlli su un mezzo che trasportava senza alcuna documentazione un totale di 6.000 litri di liquido, il cui grado di tossicità sarà ora valutato attentamente dall'ARPAC anche per verificare se vi sia certezza di radioattività. Una ipotesi quindi al vaglio degli inquinenti anche perché l'idrossido di potassio, elemento di cui era composto il liquido, è altamente tossico e può contenere gradi di radioattività. Inevitabile quindi effettuare adeguate analisi ed accertamenti visto anche l'incende quantitativo di liquido che è stato rinvenuto e sequestrato dagli uomini del capitano Acquaviva nell'ambito di controlli effettuati anche presso lo stabilimento di Sant'Arsenio adibito a deposito dove sono state rinvenute altre 10 tanniche contenenti ciascuna 1.000 litri di liquido tossico e cancerogeno. 16.000 litri di una sostanza chimica che solitamente viene utilizzata come detergente alcalino per l'applicazione industriale la cui provenienza non è ancora del tutto nota ma che si presume possa essere giunto nel Vallo di Diano dalla Lombardia, probabilmente dal milanese. Una eventualità ed un quantitativo che ha immediatamente portato a far avviare ulteriori indagini anche per verificare se si possa prefigurare a danno delle persone denunciate anche il reato di danno ambientale. Inoltre gli uomini del capitano Acquaviva stanno anche proseguendo le indagini vagliando diverse ipotesi analizzando nel complesso la vicenda vista anche l'enorme quantitativo di materiale liquido che si presume potesse essere destinato allo sversamento sul territorio valdianese. Una vicenda che ha colpito non poco il territorio. Da anni alla ricerca di verifiche per valutare il grado di inquinamento rimase però sempre disattese e che solo oggi, grazie agli uomini del capitano Acquaviva ha visto i riflettori accesi sul tema dell'ipotesi di inquinamento ambientale anche nel Vallo di Diano.